un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo con un libro di maria vinovska il vero volto di padre pio questa è una delle diverse edizioni tra l'altro se non sbaglio risale agli anni 70 questa sì 77 ma in realtà questo libro è stato prodotto nel 1956 quando era ancora vivo padre pio e già in un'occasione abbiamo avuto modo di raccontare che qui c'era un'altra immagine non era questa infatti forse per questo motivo maria tutte le diverse edizioni di questo libro ha cambiato sempre l'immagine il vero volto di padre pio perché forse il vero volto di padre pio e sono tante le immagini che ci regalano il volto di padre pio allora nella sua prima immagine c'era un'immagine che non piacque proprio a padre pio tra l'altro lui la cancellò con un segno con un segno ad una figlia spirituale che voleva un ricordo da parte sua e padre pio gli disse più segno di questo più ricordo di questo insomma portate a casa questa immagine segnata perché io denuncierei anche il fotografo che mi ha fatto quella foto ma era una foto che dove veniva rubato un attimo di tranquillità allo stesso padre pio ma a lui non piaceva quella foto e così forse la vinovska ha cambiato ogni volta delle diverse stampe l'immagine di questo testo lei ci scrive in questo in questi suoi racconti che nonostante i suoi modi apparentemente burberi la sua maniera di difendersi quindi questa questo atteggiamento padre pio era il più tenero dei padri e sa adeguare i rimedi alle necessità specialista nei dei grandi ritorni deve frenare le troppo impetuose penitenze con misure prudenziali che implicano a volte qualche deroga alle leggi della natura ricordiamo lei scrive al presente perché padre pio è vivo in questo in questo momento in cui lei sta raccontando questi fatti la bella e ricchissima signora luisa vairo era venuta a san giovanni rotondo per pura curiosità ed anche un tantino per sfidare l'opinione pubblica appena arrivata e la si sentì invasa da un dolore fortissimo i suoi peccati le sembravano così mostruosi e tanto orrendi che senza vergogna in piena chiesa scoppiò a piangere i suoi singhiozzi strazianti attirarono l'attenzione di qualche figlia spirituale di padre pio il quale stava confessando messo al corrente si accostò direttamente alla signora vairo e le disse calmatevi figlia mia la misericordia non ha limiti e il sangue di gesù cristo lava tutti i peccati del mondo voglio confessarmi padre disse la sconosciuta a padre pio che un'ora prima si sarebbe burlata di una simile proposta con le amiche calmatevi prima disse padre pio dolcemente ritornerete domani la signora vairo passo la notte a richiamare alla mente i peccati dalla sua infanzia non si era più confessata alla presenza di padre pio come tanti altri si sentì completamente smarrita non riusciva proprio ad iniziare sembrava che un nodo le stringesse la gola e vedendola in uno stato così pietoso padre pio dolcemente si mise a fare l'inventario della sua triste vita infine poi le chiese non ti ricordi nient'altro una violenta tentazione la fece tremare quel grosso peccato che rimaneva bisognava dunque confessarlo non era sufficiente quell'esposizione di vergogne e di fango padre pio aspettava muovendo dolcemente le labbra e infine lei stessa riprese padre padre mio resta ancora questo sia lodato e dio esclamò padre pio gioiosamente è questo che io aspettavo ed è questo un punto uno stratagemma attraverso cui padre pio confessava le persone che voleva aiutare a confessarsi ti darò la soluzione figlia mia convertita la signora vairo si mise a seguire l'esempio dei grandi penitenti un mattino d'inverno decise di andare in chiesa a piedi nudi tirava vento pioveva faceva molto freddo come accadde spesso sul monte gargano inzuppata fino alle ossa con piedi quasi sanguinanti in quel tempo la strada che conduceva la chiesa era piena di sassi svenne svenne sulla soglia per il dolore per il freddo allorché intorno a sé vide il viso di padre pio curvo su di lei figlia mia anche nella santa penitenza è necessario non oltrepassare i limiti le disse poi toccandole dolcemente la spalla disse fortunatamente quest'acqua non bagna quale non fu la meraviglia di tutti i presenti allorché si accorsero che in un batter d'occhio i vestiti della signora vairo erano divenuti completamente asciutti